Musica Fuoriuscita di Greggio d'Alcova, nuova diffida ad Enia ad annunciarlo il governatore Pittella durante la tappa valdagrina del suo tour Basilicata in Comune. Rivendicano contratti e assunzioni, i vigili del fuoco precari sono tornati a protestare davanti la sede della prefettura a Potenza. La maxioperazione che ieri a Lago Negro ha portato alla notifica di numerosi avvisi di garanzia dopo le perquisizioni della Guardia di Finanza, riflettori puntati su un bando del 2012 sulla gestione del Parco Giada. Posizioni organizzative alla regione Basilicata, pubblicato l'avviso nel mese di giugno dello scorso anno, ora arrivano le graduatorie, che però restano segrete. Street Control a Potenza affioccano le multe, singolare il caso del commerciante sanzionato per divieto di sosta mentre si adoperava nello scarico merci. Ben ritrovati con l'informazione sulla nuova tv in apertura nel nostro Tg, torniamo a parlare della fuoriuscita di Greggio dal Cova, dalla regione arriva una nuova diffida ad Eni. Ad annunciarlo il governatore Pittella durante la tappa valdagrina del suo tour Basilicata in Comune. Sentiamo tutti i dettagli da Daniele Corbo. Ancora una diffida della regione Basilicata nei confronti di Eni per la fuoriuscita di Greggio, da uno o più cisterne, ha fatto sapere nei giorni scorsi Arpab, al centro olio di Vigiano. Ad annunciarlo Marcello Pittella durante la giornata valdagrina di Basilicata in Comune, il tour del governatore fra i paesi lucani. Se su quattro serbatoi solo uno ha il doppio fondo, ha dichiarato, vuol dire che Eni produrrà di meno perché gli altri tre non potrà utilizzarli fino a quando non saranno in regola. Meno royalties per regione Comune ha poi aggiunto, pazienza, viene prima la sicurezza. L'unica cosa che si deve pretendere, ha detto, perché riavvolgere il nastro fino agli accordi del 98 non si può. Il presidente della giunta lucana ha fatto tappa a Sarconi, tramutola e Moliterno, rassicurando cittadini e amministratori sullo stato di salute del Pertusillo. Nel lago non ci sono idrocarburi e l'acqua è potabile, secondo Acquedotto Lucano, secondo l'Acquedotto e le aziende sanitarie pugliesi. Questi risultati delle analisi comunicati da Pittella, che ha ricordato come si stia monitorando quasi in continuo l'invaso, per capire il perché della fioritura di alghe che avrebbe scurito le acque lasciando pensare alla presenza di petrolio. Il petrolio però non è l'unico pericolo per la diga, ha ricordato il governatore, confrontandosi con gli alunni delle scuole di Sarconi. Ci sono altri scarichi e anche i depuratori devono funzionare meglio. Pittella vuole un nuovo rapporto con le compagnie petrolifere, che tenga conto delle istanze di sindaci ambientalisti, ieri al centro di un faccia a faccia nella bibliomediateca di Moliterno. Serve una norma regionale per limitare le emissioni di idrocarburi non metanici, ha fatto presente Gian Battista Mele, di Medici per l'Ambiente. Una richiesta già avanzata per vie formali anche dai comuni di Vigiano e Grumento Nova. ARPAB in Valdagri e studio epidemiologico, le altre due questioni sollevate dal governatore. Massima disponibilità per la sede agenziale, mentre la ricerca di fondazione biomedica e istituto superiore di sanità verrà consegnata nel giro di qualche settimana per essere condivisa e presentata sul territorio, forse dallo stesso presidente dell'IS Ricciardi. Passiamo alla cronaca sindacale. Rivendicano contratti e assunzioni i vigili del fuoco precari, i cosiddetti discontinui. Stavane sono tornati a protestare davanti alla prefettura di Potenza. Alcuni di loro sono in attesa di un contratto di assunzione anche da 30 anni. I precari sono 267 nella provincia di Potenza e 100 in quella di Matera. Da noi hanno sottolineato alcuni dei manifestanti in piazza Mario Pagano a Potenza. Si ricordano solo quando succedono grandi tragedie delle promesse. Si sono detti stanchi perché dopo la lunga attesa hanno più volte ribadito servono i fatti. Le immagini si riferiscono alla precedente manifestazione indetta davanti alla prefettura di Potenza il 15 febbraio scorso. Alcuni di loro oggi sono stati ricevuti dal prefetto Giovanna Cagliostro, la quale ha assicurato che interesserà della questione chi di competenza. Due persone rappresentanti legali della società Holtz Building e HB Costruzioni di Tito Scalo che si occupano della realizzazione di prodotti in legno sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Potenza nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica sul contrasto ai reati fallimentari. Il GIP ha disposto agli arresti domiciliari per i due rappresentanti legali e il sequestro preventivo di un centro per il taglio del legname di alcuni automezzi e immobili, strumentazioni e titoli di credito per un valore complessivo di circa 72 mila euro della HB Costruzioni. E torniamo a parlare della maxi operazione che ieri a Lago Negro ha portato alla notifica di numerosi avvisi di garanzia. Ci aggiorna Cristina Libonati. Trema la politica di Lago Negro dopo il terremoto giudiziario che ha investito alcuni dei suoi rappresentanti. Tra i 24 indagati nell'inchiesta che ha acceso i riflettori sulla gestione e l'acquisizione di fondi del Parco Giada figurano infatti anche l'attuale sindaco Pasquale Mitidieri e il suo predecessore Domenico Mitidieri insieme a funzionari tecnici e imprenditori del posto. La Guardia di Finanza di Lauria, in seguito alle perquisizioni nel Palazzo di Città e nella sede della regione Basilicata Potenza, ha acquisito documentazione utile a capire in che modo siano stati acquisiti ed erogati fondi e finanziamenti. Nel maggio 2012 il Parco Giada di Lago Negro chiude per assenza di requisiti sanitari e autorizzazioni ministeriali. Il Comune decide comunque di indire un bando al quale partecipa una sola ditta, che però non presentando tutti i requisiti specifici in materia zoologica e faunistica risulta non idonea. Si ricorre così al contratto di avvalimento, uno strumento che autorizza l'aiuto e il sussidio di imprese ausiliarie che possono coprire i requisiti mancanti della ditta da soccorrere. È proprio da qui che la vicenda inizia a sembrare poco chiara alle fiamme gialle. In seguito ad accurate indagini documentali e fiscali si scopre che il contratto risultava fittizio e lo stesso bando si basava su una copertura finanziaria inesistente, in quanto il Comune di Lago Negro è in dissesto finanziario dal 2010. Per far fronte a questa mancanza, lo stesso ente avrebbe indicato nei bilanci comunali tra il 2012 e il 2015 una posta fittizia intitolata Contributo Regione. Falsa anche questa, poiché la stessa Regione Basilicata per il Parco Giada aveva chiuso i rubinetti dall'anno 2010. Durante le indagini viene alla luce un ulteriore contributo erogato alla ditta giudicataria del presunto bando concesso dalla Regione Basilicata per l'acquisto di animali da inserire all'interno del Parco Giada. Dalle documentazioni acquisite risultano spesi solo 15.000 euro del fondo ottenuto per un ammanco di 25.000 euro che risultano spariti nel mistero e giustificati da falsa documentazione presentata appositamente ad indagine già in corso. E a Forenza non rientra la crisi amministrativa. Arriva il commissario prefettizio. Dopo due anni si esaurisce dunque l'esperienza amministrativa del sindaco Leonardo Lorusso. La crisi all'interno della maggioranza era scoppiata a febbraio, così a causa delle dimissioni del primo cittadino divenute irrevocabili. Dopo 20 giorni, in attesa del successivo decreto di scioglimento, il prefetto di potenza Giovanna Cagliostro, ieri a sospeso il Consiglio Comunale ha nominato commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente il vice prefetto aggiunto Antonio Incollingo. Per il rinnovo del Consiglio Comunale si voterà il prossimo anno. Pochi giorni fa stessa sorte è toccata a Muro Lucano dove è arrivato il commissario Mauceri. Posizioni organizzative alla Regione Basilicata ha pubblicato l'avviso nel mese di giugno dello scorso anno. Ora arrivano le graduatorie, ma è polemica. Sentiamo perché da Mara Risola. Graduatorie segreti o comunque riservate ai soli concorrenti per il personale della Regione Basilicata è quella che appare oggi essere la nuova invenzione frutto di una gestione creativa che in verità dura ormai da tempo. Pubblicato l'avviso nel mese di giugno dello scorso anno, solo ora si conoscono i risultati. Con una determina dirigenziale del 10 marzo è stato infatti pubblicato soltanto l'elenco del personale che si freggerà di una posizione organizzativa di grado A, B o C che vale in termini economici da 8 a 11 mila euro l'anno o addirittura di un'alta professionalità la cui cifra sfiora i 20 mila euro. L'attribuzione degli incarichi è avvenuta in seguito alla presentazione di titoli e di curricula e di un successivo colloquio. Ad ogni concorrente se ne sono presentati 397 è stato attribuito un punteggio comunicato esclusivamente ai singoli candidati via posta certificata. Nessuno è stato messo nella condizione di poter presentare ricorso. Il personale regionale conosce ora soltanto i nominativi di chi si è giudicato l'incarico che non è di poco conto. È rimasta invariata la ripartizione delle cosiddette alta professionalità tra giunta e consiglio con il consiglio che ha fatto nuovamente incetta 9 contro le 17 della giunta nonostante i suoi dipendenti siano soltanto il 10% di tutto il personale regionale. Un gioco di attribuzione delle posizioni organizzative che ha fatto dell'appartenenza politica la base di partenza e di approdo finale con alcuni fedelissimi che hanno fatto scorta di postazioni e altri che sono rimasti a bocca asciutta. Voltiamo pagina non ha ancora un nome l'assassino di Vincenzo Lauria il pastore di 34 anni raggiunto da un colpo di arma da fuoco il 6 marzo scorso nelle campagne di Salandra incontrata verrà padre intanto dall'autopsia emergono i primi particolari ad uccidere Lauria è stato un solo colpo che ha oltrepassato il torace dell'uomo da destra a sinistra ancora sconosciuto il calibro dell'arma sarà una perizia balistica a fare luce su questi ed altri aspetti ancora oscuri della vicenda ricordiamo che all'omicidio ha assistito il fratello gemello della vittima Antonio è stato lui a dare l'allarme ma ai carabinieri avrebbe dichiarato di non aver visto che ha esploso il colpo il presunto caso di malasanità a Policoro oggi l'autopsia sul corpo di Luisa Dellicarri la 53enne deceduta sabato scorso all'ospedale Giovanni Paolo II in seguito al ricovero per un forte mal di gola la donna era arrivata in pronto soccorso nella serata di giovedì dove prima che le venisse diagnosticato un ascesso tonsillare era stata sottoposta a tutti gli esami del caso per un sospetto di infarto in corso i risultati negativi hanno indotto i medici a scartare queste ipotesi e ad intervenire sull'ascesso tonsillare con una terapia antibiotica i familiari hanno sporto denuncia contro ignoti per capire se il decesso possa essere stato causato da una negligenza dei medici ed ora ci fermiamo per la pubblicità global service società cooperativa impegnata principalmente nei campi dell'accoglienza e dell'integrazione per lo sviluppo di un welfare sociale sempre migliore immigrati, anziani e minori rappresentano il target di persone a cui si rivolge principalmente global service allo scopo di garantire loro il diritto ad una vita dignitosa per informazioni via della tecnica 24 80500 potenza 0971 19 40 572 info chiocciola global service sociale punto it segnala ingiustizie rischi e vischi ed eventi e manderemo in onda i tuoi video nella nuova TG contatto diretto con la nuova TV manda foto e video al nostro numero whatsapp 346 8353 824 e dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG prenderà il via in questi giorni e proseguirà per tutto il mese di marzo una grande mobilitazione territoriale a difesa di strade scuola e tutela ambientale ad annunciarlo il presidente del lupi Basilicata Nicola Valluzzi sottolineando che l'iniziativa promossa dall'Unione e province italiane mira a denunciare la grave emergenza finanziaria che sta mettendo a rischio l'erogazione di servizi fondamentali per cittadini ed imprese sull'intero territorio nazionale nel programma di iniziative previste la provincia di Potenza convocherà nei prossimi giorni un confronto con il mondo della scuola per rappresentare la difficile situazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie negli 84 istituti di istruzione secondaria superiore una seconda iniziativa vedrà il coinvolgimento dell'osservatorio provinciale delle opere pubbliche sul tema della sicurezza e gestione della viabilità provinciale la rete stradale di competenza della provincia lo ricordiamo prevede ben 205 arterie per un'estensione complessiva di 2584 chilometri ed ora parliamo dello street control a potenza singolare il caso del commerciante sanzionato con una multa per il divieto di sosta mentre si adoperava nello scarico commerci sentiamo Michelangelo Russo in seguito ai dubbi sollevati dall'avvocato Luisa Rubino responsabile di rete sociale attiva Basilicata circa il corretto utilizzo dello street control nella città di potenza sono pervenute all'associazione dei consumatori numerose segnalazioni da parte dei cittadini dalle prime notifiche dei verbali sono venute a galla mortefalle evidenziando come tale strumento venga gravemente utilizzato per fare cassa ai danni degli utenti più che per migliorare realmente la sicurezza stradale un esempio tra i tanti quello del commerciante potentino Aldo Saponara che nel vedersi notificato un verbale elevato per divieto di sosta ha scoperto presso l'ufficio contravvenzioni che si trattava di multa con il sistema dello street control visionando la foto ha constatato che tale strumentazione ha filmato la sua auto con il bagagliaio ancora aperto mentre lui era intento in una operazione di scaricomerci eppure nel verbale in questione si legge che non è stato possibile contestare personalmente l'infrazione per l'assenza del trasgressore utilizzando lo street control spiegano da rete sociale attiva i vigili possono multare in breve tempo un gran numero di veicoli semplicemente percorrendo le vie cittadine il ministero ha però stabilito parametri da rispettare affinché la multa sia valida l'automobilista non deve essere nei paraggi del veicolo in difetto e il procedimento non deve essere totalmente automatizzato il sistema di ripresa video deve essere utilizzato quindi come un taccuino elettronico che facilita l'acquisizione dei dati identificativi del veicolo e non come un pericoloso macchinario sparamurte a riguardo all'attenzione di rete sociale attiva è stata portata una petizione che in pochi giorni ha raccolto più di 200 firme per richiedere il blocco immediato dello street control che si prefigura come un grave pericolo al commercio cittadino e all'economia locale già in evidente difficoltà presentata stamane a potenza la rassegna stampa dell'associazione regionale allevatori basilicata sulle attività svolte nel 2016 un'occasione importante per ricordare ad addetti ai lavori e non il ruolo fondamentale svolto negli anni dentro il quadro normativo delle direttive generali dell'associazione italiana allevatori il ruolo principale dell'organizzazione è quello di svolgere attività utili a migliorare il bestiame allevato nell'ottica della valorizzazione delle specie stesse e dei prodotti che ne derivano le principali aree di intervento riguardano la tenuta dei libri genealogici e i controlli di funzione sul bestiame di fondamentale importanza anche il servizio di consulenza tecnica che consente di certificare l'origine dei prodotti attraverso il marchio nazionale Italia alleva combattere il femminicidio e favorire la piena partecipazione della donna nella vita sociale se ne è discusso a Villa d'Agri in un dibattito a più voci sentiamo istituzioni associazioni e scuola un fronte unico per combattere il femminicidio e favorire la piena partecipazione della donna alla vita sociale del paese e della regione rappresentanti di queste tre sfere hanno partecipato a un dibattito che si è tenuto presso l'aula magna dell'agrario di Villa d'Agri istituto da tempo impegnato in progetti educativi sulla legalità si inserisce in un percorso che ha avuto inizio in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne con la partecipazione al corteo non una di meno in quella circostanza ci sono stati diversi spunti e diversi stimoli per portare avanti un vero e proprio progetto di prevenzione sociale lavoro quotidiano nelle aule con le nuove generazioni e momenti di sintesi da condividere con un pubblico quanto più possibile ampio per diffondere la cultura del reciproco rispetto ed estirpare le radici maschiliste della società soprattutto quella meridionale questo il senso dell'iniziativa promossa da Pianeta Donna associazione attiva da tre anni che conta ormai più di cento iscritti stesso destino diversa sorte è il titolo del romanzo della lucana Monica Cirigliano la lettura attraverso cui i ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi col tema il problema è innanzitutto culturale se non cambia il modo di pensare alla figura della donna le leggi potranno ben poco servono però anche quelle in Basilicata se ne sta discutendo in Basilicata è stata avanzata una proposta di legge regionale che da un lato vuole prevenire e contrastare il fenomeno della violenza e dall'altro vuole valorizzare il capitale femminile una proposta di legge regionale in cui si parla di centri di cura per uomini maltrattanti di omicidio di identità immaginiamo punteggi più alti nei bandi per gli enti con una nutrita presenza femminile ha spiegato Michele Napoli le istituzioni devono però farsi sentire ha poi aggiunto il consigliere regionale di Forza Italia se vogliamo aiutare a denunciare non possiamo lasciare all'uomo violento la libertà di reiterare certe azioni all'incontro sono intervenuti anche il consigliere provinciale Giovanni Vita Marianna Fanelli coordinatrice stati generali Donne Basilicata l'avvocato Pietro Infantino referente legalità dell'omnicomprensivo di Marsico Vetere Gianni D'Ambrosio per la cooperativa sociale Iscra tutti hanno ben presente un dato non ci sono donne né in consiglio regionale né in quello della provincia di Potenza anche in Basilicata dunque la strada dell'effettiva parità è ancora tutta in salita è tutto ora la linea Manuel Scalese per le notizie sportive grazie per la cortese attenzione buon proseguimento di giornata ben ritrovati dalla redazione sportiva della nuova TG apriamo quest'oggi come sempre dal calcio e dalla Lega Pro con il Matera che prepara il match contro i giganti dell'Akragas mentre il Melfi prepara la delicata trasferta contro la Virtus Franca Villa si avvicina a grandi falcate il momento in casa Matera del nuovo impegno di campionato questa volta da Grigento contro l'Akragas con pagina tignosa e capace di fare risultato con chiunque il Matera dovrà opporre grande attenzione visto che i siciliani lottano per evitare gli spareggi retrocessioni a fine stagione mister Auteri sta lavorando per trovare una maggiore quadra facendo leva sul ritrovato entusiasmo derivante dalla vittoria con la regina di domenica scorsa in Sicilia tornerà Salandre ex di turno e sarà da valutare sia la posizione di ingrosso fattosi male a Catanzaro e sia quella di Capitan Iannini indisponibile per il match con la regina per un virus intanto rimane sempre aperta la questione tra il DG Pino Iodice e il Matera o meglio il presidente Columella i dissapori tra i due si sarebbero acuiti nell'ultimo periodo diciamo da febbraio con il dirigente Campano che nelle ultime settimane si sarebbe defilato in attesa di conoscere quali mosse abbia in serbo patron Columella possibile che la ritrovata serenità data dai risultati possa creare un clima di dialogo dopo una prima parte di stagione di grandi soddisfazioni dopo la grande vittoria ottenuta in extremis contro il Catanzaro il Melfi di Aimo Diana è tornato subito a lavorare in vista della prossima partita contro la Virtus Franca Villa il tecnico giallo verde è consapevole che nonostante le due vittorie di fila la squadra ha ancora tanto da migliorare soprattutto nel reparto offensivo e che la classifica ancora non può far stare tranquilli visto che la Vibonese non si è staccata troppo dalla penultima piazza la Virtus è un'ottima squadra in casa non perde da 11 giornate ne ha vinte 10 e pareggiata una il tecnico giallo verde nella trasferta in Puglia dovrà fare a meno di Romeo che squalificato per due giornate salterà anche l'importantissima partita contro l'Agracastra 15 giorni al Valerio di grande interesse per i giallo verdi è lo scontro play out tra Regina e Vibonese con quest'ultima che ha vinto la scorsa settimana per 2 a 0 contro la Virtus il Melfi deve fare la sua partita sperando d'altro canto nel passo falso delle dirette interessate alla salvezza ma ogni ragionamento non potrà prescindere dall'assenza di un risultato positivo dal girone C di Lega Pro facciamo un balzo al girone HD Serie D con il Picerno alle prese con le prove di formazione in vista del Cinzia mentre il Francavilla recupera due tasselli importanti come Pagano e Mannone con il potenza alle prese con la grana stadio che mette in dubbio il match contro il Ciampino mentre la Vultur si prepara al duro ostacolo Gravina Oggi pomeriggio nella classica amichevole del giovedì mister Arleo farà le prove generali della formazione con la quale il Picerno affrontera il Cinzia domenica rispetto alle ultime apparizioni probabili i ritorni di Ole a Gresta il primo è impredicato di riprendere il suo posto al centro della difesa il che comporterebbe l'esclusione di uno tra Conti e Impagliazzo che hanno offerto e offrono ampie garanzie di rendimento al tecnico Potentino il secondo invece dovrebbe riprendersi il posto da titolare nella zona mediana del campo per il resto non ci dovrebbero essere particolari stravolgimenti dell'undici visto contro il Manfredonia anche perché nelle ultime tre gare il Picerno sembrerebbe aver trovato la quadra con il 4-2-3-1 il Francavilla prosegue la sua preparazione in vista del match di domenica al Fittipaldi contro l'Anzio quando i sinici saranno chiamati a centrare un successo che manca dal derby vinto contro il Potenza la lieta notizia in casa Francavilla è il ritorno in gruppo di due tasselli di fondamentale importanza nello scacchiere del tecnico serbo parliamo dei due difensori centrali Pagano e Mannone che si sono buttati alle spalle i rispettivi infortuni ed ora vorranno fornire loro contributo e compagni per il raggiungimento della salvezza come anticipato ieri il Potenza sta provvedendo su indicazione della Lega Nazionale di Lettanti a rivestire di gomma piuma i pali di sostegno della curva ovest e la recinzione che costegge il settore dei distinti alla luce delle misure inferiori rispetto a quelle idonee previste dalla linea di fondo e quella laterale alle inferriate in realtà il tutto sarebbe dovuto già avvenire in occasione del match contro l'Herculaneum ma la stessa LND aveva concesso una proroga una volta effettuati tutti gli accorgimenti del caso il Potenza dovrà inoltrarne prova alla Lega che a sua volta rilascerà il via libera per la disputa del match altrimenti potrebbe anche essere in dubbio il regolare svolgimento della gara contro il Ciampino tornando al campo per quanto riguarda Lucchese che lo scorso venerdì ha subito in allenamento un innaturale torsione del ginocchio in uno scontro di gioco con il compagno Manetta gli esami hanno evidenziato a carico del legamento collaterale mediale del ginocchio destro i tempi di recupero dipenderanno dall'evoluzione del quadro clinico e da come il calciatore risponderà alle terapie ma si parla di 2-3 settimane filtrano intanto i prezzi dei tagliandi inerrenti alla gara contro il Ciampino la curva 7 euro distinti 10 euro tribuna laterale 13 euro tribuna centrale 16 l'attesa per la prossima gara di campionate è tanta e la Voltur sta mettendo a punto tutte le migliori strategie per confermare la sua caratteristica di mina vagante con le grandi la partita contro il Gravina oltre a punti preziosi in ottica salvezza potrebbe avvalorare uno dei punti di forza dello scacchiere bianconero quale il modulo guardando gli uomini a disposizione si può dire che il probabile rientro di Aracri potrebbe rappresentare l'arma in più per i Volturini a tutto ciò va aggiunto anche il vantaggio che la squadra avrebbe sulle fasce e la capacità del rientrante De Rosa di mettere in moto pettagine da un lato e scavone dall'altro garantirebbe sia continui cambi di gioco che possibilità per i saltatori di aggredire la difesa avversaria intanto il match si svolgerà alle 15 come d'accordo intercorsi tra le società e dalle competizioni nazionali facciamo ritorno nei nostri confini perché dopo la conclusione delle indagini della Procura federale sull'irregolare utilizzo del calciatore Michele Di Muccio per 18 gare di campionato dal 2014-2015 come pubblicato sul comunicato ufficiale 28 del 27 ottobre 2015 la società del pomarico è stata sanzionata con 4 punti di penalizzazione in questa stagione squalificati inoltre i dirigenti e il calciatore per un massimo di 90 giorni e chiudiamo l'ampia pagina dedicata al calcio proiettandoci sotto rete perché si terrà sabato 18 marzo presso il liceo scientifico Dante Alighieri di Matera il workshop di Sitting Volley l'evento è organizzato dalla FIPAV Basilicata dal Comitato Italiano Paralimpico di Basilicata dal liceo scientifico e dall'SD Rotonda Volley con il patrocino del CONI la manifestazione ha come obiettivo quello di presentare gli alunni il Sitting Volley una disciplina completa integrante ed inclusa che può essere praticata da tutti persona con disabilità ma anche da ragazzi senza alcuna difficoltà infatti la posizione seduta annulla di fatto tutte le barriere e le distanze l'intento è quindi di presentare questo sport agli alunni e far conoscere le storie del vissuto di atleti disposti a superare tutte le difficoltà ma soprattutto far scendere i ragazzi in campo in una sfida che abbatta tutti i pregiudizi all'evento saranno presenti inoltre atleti e tecnici della nazionale maschile e femminile di Sitting Volley che vede tra le proprie filate serati del sodalizio rotonda volley che negli ultimi anni ha dato un forte decisivo contributo alla selezione nazionale con quest'ultima notizia si conclude il nostro ampio focus inerente al mondo sportivo lucano rimandando l'appuntamento come sempre alla prossima edizione del Tg grazie mille per essere stati con noi buon proseguimento con la programmazione della nuova tv grazie mille per essere stati dopo il passaggio della debole perturbazione che ieri ha portato qualche debole pioggia e qualche fiocco di neve sulle nostre montagne il tempo è tornato ovunque a migliorare grazie all'aumento della pressione che sta interessando tutta l'Italia nei prossimi giorni continuerà il bel tempo con la temperatura massima e in graduale aumento sulla nostra regione avremo una residua a nuvolosità che sarà maggiore sulle zone interne specie quelle a ridosso dei rilievi appenninici maggiori schiarite si avranno lungo le coste specie quella tirrenica dove il cielo si presenterà sereno per gran parte della giornata durante la notte non si escludono locali gelate nelle vallate appenniniche le temperature saranno stazionario e nel lieve calo nei valori minimi le massime aumenteranno leggermente soprattutto nelle zone dove insisterà il sole potenza a 0 le minime 11 le massime matera a 3 le minime 14 le massime i venti continueranno a provenire dai quadranti settentrionali e risulteranno ancora di moderata intensità i mari sia lo Iogno che il Tirreno saranno poco mossi previsioni per domani l'ulteriore consolidamento dell'aria di alta pressione favorirà condizioni di clima tipicamente primaverile con presenza di cielo sereno poco nuvoloso su tutta la regione ci sarà una forte escursione termica con le temperature che durante la notte a causa del cielo sereno andranno sotto zero nelle località interne le massime andranno localmente oltre i 15 gradi a l'ulteriore a l'ulteriore a l'ulteriore Grazie a tutti.